Milano-Ancona in meno di tre ore, confermate a Bologna, Forlì, Rimini e Pesaro. Italo, il treno di alta velocità NTV, progetta lo sbarco nelle Marche per portare appunto l'alta velocità lungo la via Adriatica a partire dal prossimo giugno e avvicinare così due regioni, le Marche e la Lombardia. L'azienda è pronta a chiedere al gestore delle infrastrutture, rete e ferrovie italiane, le tracce per il nuovo servizio. Tre coppie di treni per un totale di sei viaggi al giorno. Abbiamo a lungo accarezzato un sogno che sembrava impossibile portare l'alta velocità sulla dorsale Adriatica e oggi questo sogno si avvera, il commento del Presidente Spacca sull'accordo con NTV. Perché investire sulla rete Adriatica? L'amministratore delegato di NTV, Giuseppe Sciarrone. Perché è una linea ad alto traffico, che ha bisogno di servizi migliori, perché su questa linea è possibile portare e estendere i vantaggi dell'alta velocità. Quindi i tempi di percorrenza da Ancona a Milano possono essere ridotti di oltre un'ora e quindi in questo modo il grosso traffico della direttrice Adriatica può essere riportato a quello che è il mezzo di trasporto migliore per i collegamenti con il nord, che è il treno. Grazie a tutti. Grazie a tutti